Ed eccoci qui ragazzi e ragazze in compagnia del vostro Diablotex Come da mia promessa si continua sul nuovissimo Sword Art Online Last Recollection Ovviamente in versione Playstation 5 Vediamo un attimino qui se abbiamo qualche arma di qualche equipaggiamento Che può fare un po' più danno E diamo un'occhiata insomma Ehm... si Ma certo Ma certo Andiamo con questa ragazzi Poi adesso non è che mi metterò a cambiare tutto l'equipaggiamento Perché qui abbiamo una questione molto più importante Trovare la strada per vedere dove bisognerà proseguire giustamente Quindi diamo un'occhiatina Allora iniziamo a girare verso Questa Vediamo un attimino qui prima eh Un attimino ragazzi non me ne volete Dunque dove dovrei cercare ora? Vabbè Allora Datemi tempo un secondino perché devo capire Ehm... il dove andare Quindi allora Proviamo in questa direzione Su Proviamo in questa In questa direzione Vabbè Vabbè Da qualche parte bisognerà pure iniziare no? Quindi Più che iniziare Continuare Cosa abbiamo qui? Ah Vabbè Diamo un'occhiata Vediamo un po' cosa succede Ah Che sia la volta buona che andiamo avanti Che sia la volta buona ragazzi Un momento Non ditemi che questa è Sì È senza dubbio la fonte di alimentazione L'abbiamo liberato Ma la sua vita viene ancora usata per alimentare la barriera Purtroppo non c'è altro modo Dobbiamo eliminarlo Sì ma io qui non so di che livello è questo ragazzi Capisco Avanti allora Non lasciamolo soffrire ancora Sì ma questo qui Ragazzi È grosso Sì Hai ragione Coraggio Ma Non sarà semplice buttarlo giù questo Rango 7 Debole Quindi potrebbe essere la strada giusta per andare avanti Vediamo un po' Speriamo Vamos Vai Kirito Speriamo bene qui ragazzi Perché la situazione Dobbiamo trovare comunque la strada per Continuare Fantastico Ecco adesso è un po' più di resistenza Adesso è un po' più di resistenza questo qui ragazzi Però comunque dai Comunque va bene in questo modo Speriamo bene Speriamo che era qui Io voglio ben sperare Non dico altro Però se partono queste cazzine Potrebbe essere Aha Spero che ora sia libero Sono sicuro che è così Già Kirito Tutto bene? Sì più o meno E tu? Comunque sia Ora la barriera sarà svanita Andiamo Ok Quindi ragazzi abbiamo trovato la strada Vabbè da qualche parte bisognava andare Aggiornamento missione Allora Fermi eh I personaggi hanno ruoli speciali Detti stili Puoi cambiare a piacimento solo gli stili di Kirito Ok Sfrutta al massimo gli stili degli alleati in battaglia Usando i loro punti di forza Per creare una strategia vincente Esistono tre stili in tutto Invincibile Attila gli attacchi dei nemici Alleanza Supporta gli alleati Armamento Specializzato In attacco Va bene Vediamo un po' qui le gambe abilità Doppie armi Diamo un'occhiatina Vabbè qui magari lo cambieremo un po' più avanti Vediamo L'albero delle abilità Abbiamo punti per continuare Ad inserire insomma no? Fantastico Fantastico ragazzi Fantastico eh sì Vediamo eh Allora Possiamo ancora inserire molte Ecco adesso non possiamo inserire più nulla ragazzi Eh no Però abbiamo anche qualcosa verso gli altri personaggi No Credo solo Va bene No Non modifico attualmente nulla per adesso Allora Ora voi avete già capito ragazzi Da che punto dobbiamo tornare no? O almeno Io l'ho capito Ma l'avrete capito anche voi Dai non fate Non fate i balordi Anche perché adesso La destinazione ci viene indicata ragazzi Quindi Ma io so dove andare ora Per continuare E prima che non sapevamo nulla Ma adesso Ma adesso Ne siamo al corrente Di dove andare E beh Eh sì Vediamo un po' Fantastico Fantastico Ok No no Fermi Distruggiamo anche questo gigante Perché almeno prendiamo anche Un altro forziere Ma Ok È debole come nemico Però insomma Ha sempre comunque La sua Fantomatica energia Qui E non è che Non è che È molto molto debole Diciamo eh Non è debolissimo Eh no Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Ok 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 Ma giusto per prendere Questo forziere Qui ragazzi Altrimenti Neanche mi sarei impegnato Più di tanto eh Nello sconfiggerlo Di nuovo Insomma Ok andiamo 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 Uh la la Trofeo guadagnato Ragazzi Perché Ah ok Trofeo Allora non è che Possiamo accorciare Di qui no Eh no Bisogna fare Tutto il giro Eh Ci mancherebbe E allora Visto che devo fare Tutto il giro Ok Andiamo Mamma mia Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ok Ok Vediamo un po' qui Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto Dove si va? Eh si va da questa parte Dove vogliamo andare Dove vogliamo andare? Per forza qui Per forza qui ragazzi Beh il muro non c'è più Possiamo proseguire È stato un bel giro Ma finalmente Possiamo raggiungere La città Mercantile Ok Sì ci siamo quasi Teniamo il passo Ok Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mamma Mamma mia Allora Vediamo un attimino Qui Eh vabbè ragazzi Su dobbiamo un attimino Rettificare un po' la situazione Dobbiamo rettificare un po' la situazione Allora Cerchiamo di capire Il da farsi Ok 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 Allora No Tranquilli Perché adesso andiamo avanti Tranquilli Andiamo avanti Tranquilli In qualche modo Andremo avanti Speriamo Missione conclusa ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ora qualche cutscene Sicuramente Quindi Siamo arrivati Alla città mercantile Ottimo O siamo tornati No Vabbè comunque Siamo arrivati Quello è l'importante Quello È l'importante Che ... Grazie a tutti 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 Spero che tu possa accontentarmi D'accordo All'uomo serve All'uomo serve una mano Con le sue Perizi ambientali Gli servirebbero Dei campioni di terreno e di acqua Dal territorio degli orchi E' ora di scavare Sì ma... Dove? Dove? Vabbè innanzitutto andiamo qui ragazzi Dai Innanzitutto andiamo qui Qui non abbiamo nulla Qui non abbiamo nulla Trovi un giocattolo intagliato nel legno Al lato della strada In realtà sono due Una spada E una bacchetta Sono molto consumate Non ci sono molte differenze Tra i giocattoli Dei due regni Ok Ok Siamo arrivati eh Vabbè Non è che era molto impegnativo Qui a fare la missione Andiamo qui Però adesso Ecco Bisognerà parlare un attimino Oh Il fatto del pò che si era un uomo per un mercato. Nel caso, il comune di un uomo che è un tipo di dottore. Qualche? Inoltre, ha detto che è un Drossi? Ah, così è vero che questa città è una città... Ah, è vero... Drossi è una città di cui... È una città della città della città della città... Grazie a tutti 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 Ah, Kirito! C'è tutto qui? Ah, c'è anche Strea. Ah, c'è l'arguardo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora ragazzi vediamo un attimino Indaghiamo un altro po' E tra un po' chiuderemo il gameplay Quindi Vai Grazie a tutti 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 Perfetto ragazzi Allora per il momento il vostro Diablotex Chiude un altro episodio Per quanto riguarda il nuovo Sword Art Online Last Recollection In versione Playstation 5 Vi ringrazio come sempre a tutti e a tutte Per il vostro fantastico supporto Vi do appuntamento con i prossimi episodi Che tranquilli non tarderanno Ad arrivare Vi ho fatto questa promessa Grazie ancora di cuore a tutti Vi ricordo che se vi farà piacere Magari di lasciare un like Un commento Condividere il gameplay Ed iscrivervi Sul mio canale YouTube Grazie di cuore a tutti E appuntamento con il prossimo episodio Ciao Ciao